... Buongiorno a tutti, iniziamo con l'ordine del giorno, l'approvazione verbali della del Consiglio Comunale, l'approvazione verbali precedente seguita, approvazioni e variazioni di sestamenti a bilancio di esercizi finanziari 2011, modifica della deliberazione del Consiglio Comunale numero 27 di dicembre 2010, adagere l'approvazione e convenzione per la riduzione del parcheggio ad uso pubblico in Chiaregamo al Polo, approvazione e convenzione per la gestione del patrimonio silvopastorale della Comune di Osmo e l'evoca precedente di deliberazione di possibili comunali di Giunga, adesione alla Costituzione della Società Servizi Ilici di Valle Ciamonica S.R.N., adesione all'Unione degli Antichi Burghi di Valle Ciamonica, approvazione nel schema del nuovo statuto, istituzione del corso di dubitare in forma sociale, che poi di fatto è saldato perché la norma l'allogata, scioglimento della Convenzione per la Segreteria e in nuova Convenzione con il capo di Ponte. Grazie, grazie.